Musica Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca Tentato furto nella notte alla banca di Pieve al Toppo Vediamo come è andata L'allarme è suonato attorno alle 4 di questa notte I ladri stavano forzando la porta d'ingresso della filiale di banca intesa di Pieve al Toppo Ancora un ride notturno nell'aretino, nel mirino di una banda Adesso, dopo le aziende di preziosi, un istituto bancario I malviventi, dopo aver scassenato la porta, si sono introdotti all'interno dei locali in cerca di soldi Ma sono stati costretti ad allontanarsi a mani vuote, messi in fuga dal sistema di allarme Nei primi riscontri effettuati assieme al personale della banca sembra infatti non manchi nulla Alle spalle però si sono lasciati ingenti danni Dalla porta d'ingresso forzata ai tentativi di esportare la cassaforte Sino ad una telecamera di video sorveglianza sradicata Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno dato avvio alle indagini Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere presenti nella banca Per cercare di risalire ai responsabili del tentato furto Solamente qualche giorno fa una banda di malviventi aveva provato ad entrare sempre nella notte In una ditta ora fa di via Ramelli Ma anche in quel caso qualcosa era andato storto e i ladri erano fuggiti a mani vuote Ancora cronaca, uno scooterista ha investito un lupo lungo la SR-71 L'uomo è stato trasportato in ospedale Il scooter ha investito un lupo che passeggiava a lungo la strada provinciale 71 In località Il Matto, frazione del comune di Arezzo Nell'incidente l'animale morto sul colpo Il conducente del motorino invece è finito fuori strada In seguito all'urto è rimasto ferito E' successo questa mattina attorno alle 7 Lo scooterista, un 57enne, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo Il mezzo è finito fuori strada ed ha terminato la sua corsa in un fosso laterale Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 dell'Asla Toscana Sud-Est Con un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca Nulla da fare invece per il lupo che è morto sul colpo Alla polizia municipale sono stati affidati rilievi Al personale del servizio veterinario invece gli accertamenti sull'animale Cambiamo argomento Liliana Segre, Claudio Bisio e Piff, Michele Serra, Perra Tunz, Daniele Mencarelli e Gerardo Colombo Sono alcuni dei protagonisti che animeranno l'ottava edizione di Utopic Fest Il festival internazionale sul conflitto che si svolgerà a Rondine, Cittadella della Pace Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno Tre giorni disarmanti per ritrovare la fiducia, per andare insieme alle radici della fiducia E capire perché valga la pena correre il rischio di mettersi in gioco e scommetterci ancora Questo è il tema dell'ottava edizione di Utopic Fest Il festival, come detto, si apre il 30 di maggio con la Marcia Rondine in Cammino per la Pace Promossa dalla Cittadella della Pace, l'ufficio scolastico regionale per la Toscana La consulta provinciale degli studenti da Arezzo a Rondine Che già da anni coinvolge migliaia di studenti da tutta la regione E adesso torniamo ad Arezzo perché migliora la percezione della sicurezza nella zona dei Porcinai Dopo il rafforzamento dei controlli c'è stata anche una nuova operazione antidroga Ce ne parla Chiara Sadotti Prima di tutto non ci sono più le risse di prima E poi ci sono anche più passaggi di volanti, di polizia, carabinieri Anche vigili urbani fanno molto di più il loro lavoro anche lì davanti ai giardini dei Porcinai Diciamo che un pochino più sicuri lo siamo Migliora la situazione e sicurezza ai giardini del Porcinai dopo il potenziamento del monitoraggio Questo quanto ci confermano cittadini e residenti che quotidianamente vivono questo angolo della città Sembrava un dissuasivo un po' così campatonale In realtà si vive un po' meglio in questa zona Meno atti vandalici, meno confusione, meno liti La zona proprio nelle ultime ore è di nuovo finita sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine Una speciale operazione di controllo da parte di guardia di finanza, polizia, carabinieri Con le unità cinofile e vigili urbani Una cinquantina le persone controllate per una di queste è scattata la denuncia perché è trovata nel territorio ma è irregolare Un'altra persona invece è stata segnalata perché è trovata in possesso di droga per uso personale Ha aiutato comunque per una minima parte a distogliere comunque il continuo flusso di persone poco raccomandabili in questa zona I giardini che si trovano a pochi passi dalla stazione di Arezzo erano finiti più volte sotto i riflettori dell'opinione pubblica Per il problema dell'escalation di episodi di violenza e degrado Qualche settimana fa erano così arrivati anche i vigilantes Un servizio di controllo da parte di un'agenzia privata come deliberato dal comune Almeno fino alla partenza dei lavori di riqualificazione prevista per giugno L'auspicio che sì, che non si stacchi la spina è questo E che migliori sempre di più E adesso spostiamoci a Civitella Arriva una nuova area inclusiva giochi della frazione di Pieve al Toppo all'interno del parco pubblico di Viale Androme Da uno spazio verde urbano riqualificato, valorizzato e con un'area giochi completamente inclusiva L'intervento, grazie al contributo di Coingas, è stato realizzato in attuazione all'obiettivo generale Da parte dell'amministrazione comunale di Civitella Di valorizzare, riqualificare e realizzare aree verdi e spazi all'aperto Dotando il parco anche di giochi inclusivi Il tutto finalizzato a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con diverse abilità E adesso passiamo alla sanità perché si cercano giovani medici per rimpinguare l'organico degli ospedali periferici Anche in provincia di Arezzo Il servizio Cercasi giovani medici da reclutare per gli ospedali periferici e delle isole Sono stati infatti pubblicati in gazzetta i bandi di concorso Sono online sul sito di Estar, ente di supporto tecnico della regione toscana 18 in tutti i posti distribuiti nelle tre aziende sanitarie con incentivi economici Percorsi di professionalizzazione mirate di carriera per chi sceglierà di lavorare fuori dai grandi centri urbani Un bando unico a livello nazionale per provare a risolvere il problema delle zone carenti Ci sarà dunque tempo sino al 20 giugno per inoltrare la domanda e partecipare al concorso 7 i posti disponibili nell'asla toscana sud-est Si cercano un medico di medicina interna per lo stabilimento del Casentino degli ospedali riuniti del Retino Un nefrologo, un ortopedico da assegnare all'ospedale di Notto alla Montepulciano Un medico per l'organizzazione dei servizi sanitari nelle zone delle colline dell'Albegna Ed un altro per la zona distretto del Casentino, Valtiberina e Valdichiana Retina Poi uno psichiatra per il Dipartimento di Salute Mentale della zona Miata Grossetana E colline metallifere ed infine un radiologo per lo stabilimento di massa marittima del Presidio Ospedaliero Unico Grossetano Continuiamo a parlare di sanità perché c'è un nuovo approccio multiprofessionale e personalizzato Per il percorso di presa in carico delle persone con disabilità e una partecipazione attiva dell'utenza e dei familiari Sono questi punti cardine del prodotto operativo approvato questa mattina in conferenza integrata dei sindaci della Valdichiana Aretina alla presenza dei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana E dell'ASL Toscana Sud-Est Il protocollo con la quale i comuni e l'azienda sanitaria definiscono forme di collaborazione professionale e gestionale È un'ulteriore azione in aggiunta alla Convenzione per l'integrazione socio-sanitaria Già attiva nel 2023 in Valdichiana per la non autosufficienza Tra gli obiettivi dell'attuazione del protocollo c'è anche la costruzione di un progetto di vita personalizzato e condiviso Che tenga conto delle esigenze e dei bisogni della persona Il progetto sarà coadiuvato dal case manager che oltre a garantirne la realizzazione Insieme alle altre figure professionali sarà l'interlocutore delle famiglie e dell'utenza presa in carico E adesso parliamo di treni perché dal 9 giugno arrivano nuovi collegamenti per le mete estive e turistiche Ce ne parla Greta Settimelli Ma le novità sono veramente tante In generale fatemi dire è creare un servizio completo a 360 gradi per chi vuole muoversi per turismo in treno Dal 9 giugno in Toscana arrivano nuovi collegamenti in treno per le mete turistiche estive, mare, montagna e città d'arte Con il nuovo orario estivo il frecciarussa notturno collegherà la Toscana, la costa tirrenica fino a Reggio Calabria La novità dell'estate sarà il collegamento intermodale Argentario-Link Che consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano Inoltre fino al 1 settembre sarà possibile raggiungere le 5 terre direttamente da Arezzo e dal Val d'Arno Con una coppia di treni attiva nei giorni festivi tra Arezzo e Sestri Levante Treni completamente dedicati, tailor made potremmo dire, sulle esigenze del turista È tornato lo scompartimento a 4 o a 6 posti, la carrozza ristorante con il pasto servito al posto E la cucina con la preparazione a bordo, soprattutto il grande bagagliaio Dove ciascuno andando in vacanza potrà mettere i colli ingombranti, il gommone, gli sci d'acqua Insomma, è veramente il momento in cui possiamo dire con treni turistici italiani del polo passeggeri La vacanza inizia salendo in treno L'agricoltura è senza età, lo sanno bene le sentinelle della sostenibilità Gli imprenditori agricoli che per tutta la vita lavorativa e non solo Si sono impegnati e si impegnano ancora tutt'oggi verso la tutela dell'ambiente E la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio Sono quasi 7 mila in Toscana i coltivatori diretti over 65 Che nonostante abbiano già maturato i requisiti della pensione Continuano a curare la loro terra con la stessa passione e con la stessa energia degli inizi Grazie alla possibilità di continuare a lavorare in agricoltura Infatti, le donne e gli uomini del settore hanno un ruolo fondamentale Nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente Questo è un tema al centro dell'iniziativa promossa da Coldiretti Toscana, Coldiretti Arezzo Feder pensionati Coldiretti insieme a giovani imprese Coldiretti e donna imprese Coldiretti In programma giovedì 23 maggio alle 10 presso il seminario Vescovile di Arezzo in piazza di Murello Sarà in questo contesto che saranno premiate le sentinelle della sostenibilità di tutta la regione Storie di vita e di agricoltura che si intrecciano con le nuove generazioni e con le comunità E adesso andiamo a vedere gli oltre 500 bambini che sono saliti sul palco del teatro Tenda Con i guanti bianchi e si sono esibiti dimostrando che anche con la musica si vincono le diversità Vediamo Si sono esibiti con i guanti bianchi per dimostrare che anche con la musica si vince sulle diversità Al teatro Tenda oltre 500 bambini della scuola primaria dei plessi d'indicatore San Giuliano, Salleo, Pratantico e Pescaiola dell'istituto comprensivo Piero della Francesca per la conclusione del progetto Cresciamo Insieme Grazie a questo progetto i bambini sono consapevoli di quello che è la cultura sorda e la lingua dei segni che è una vera e propria lingua Attraverso la musica vengono veicolati anche altri principi i quali quello dell'inclusione che caratterizza in modo particolare il nostro istituto e poi si inquadra anche in una, come la definisco io, vocazione artistica del comprensivo Nel corso dell'anno gli alunni si sono preparati assieme all'associazione Voce in Canto Lo scopo è stato quello di divulgare il canto corale e la lingua dei segni lis con il coro mani bianche e la grande soddisfazione dell'associazione è stata aver coinvolto tutti e cinque i plessi dell'istituto comprensivo Piero della Francesca in questo dobbiamo ringraziare la preside che ha creduto in questo progetto inclusivo di integrazione ma anche andando all'aspetto corale, all'educazione all'ascolto, all'educazione al rispetto del gruppo e quindi rispettando tanti elementi fondamentali per la scuola È veramente bello poter avvicinare i bambini a questi linguaggi assai che appaiono estremamente lontani fra di loro, sono uno all'opposto dell'altro ma in realtà siamo riusciti ad avvicinarli e a renderli uniti e comunicativi Un progetto che educa al rispetto delle differenze È un'esperienza bellissima vedere i bambini che imparano la musica affiancato alla lingua dei segni Cantano e uniscono alla voce la lingua dei segni È un'emozione grandissima perché noi siamo abituati a vedere i grandi che segnano Invece vedere questi bambini con i guanti bianchi che segnano così in modo immediato è bellissimo anche perché sensibilizzano proprio gli adulti anche al fatto che questa è una lingua vera e propria a tutti gli effetti E adesso spostiamoci a Cortona L'associazione sportiva ciclismo Terontola Omaggia la figura di Gino Bartali Sabato 25 maggio alle ore 10 sarà presentata la gigantografia dedicata a Ginettaccio Nell'atrio della stazione ferroviaria di Terontola in piazza Nazione Unite L'immagine del grande sportivo nominato giusto tra le nazioni è tratta dalla stele presente al binario 1 L'operazione ha lo scopo di promuovere la prima edizione del medio fondo non competitivo Gino Bartali Terontola Assisi del prossimo 1 settembre 2024 E adesso passiamo alla pagina sportiva Apriamo con l'atletica Applausi per Anna Visibelli alla manifestazione regionale assoluta di Pistoia L'atleta cresciuta nell'alga atletica Rezzo e allenata da Paolo Tenti è rientrata tra le grandi protagoniste della gara in virtù della vittoria nel salto e lungo con 6 metri e 21 che rappresenta una delle migliori prestazioni del 2024 a livello nazionale e che permette di centrare la qualificazione per i campionati italiani in programma sabato 29 domenica 30 giugno alla Spezia Il fine settimana dell'alga atletica Arezzo è stato arricchito anche dal doppio record personale di Filippo Misuri che al campionato di società interprovinciale della categoria cadetti ha meritato il primo posto nel salto e lungo e il secondo posto nei 100 ostacoli E andiamo adesso in Casentino dove si è svolto questa mattina presso la piscina di Bibbiena il progetto Insieme Sportivamente partito da una collaborazione tra province di Grosseto, Siena e UPI regionale Anche gli istituti scolastici del Casentino hanno partecipato a questa proposta nel progetto specifico Insieme si vince ovvero una parte dedicata a sport e disabilità e inclusione attraverso lo sport che porta il nome del compianto Giorgio Cerbai già presidente del CONI della provincia di Arezzo è molto impegnato su questo fronte In questo contesto i ragazzi con disabilità hanno gareggiato in piscina con i loro compagni e compagne 60 gli atleti in tutto divisi in squadre miste E in chiusura parliamo di podismo Il programma è stata presentata nella sede di Seco ad Arezzo la 51esima edizione della scalata al Castello gara internazionale di corsa su strada in programma domenica 26 maggio ad Arezzo La gara maschile è di 10 km, quella femminile di 5, 12 giri per gli uomini, 6 quelle per le ragazze Il programma prevede alle 15 e 45 esibizioni di ciclisti acrobati Alle 16 e 15 le gare del settore giovanile Alle 17 la gara in linea 10 km amatori Alle 18 le esibizioni di artisti di strada E alle 18 e 30 la gara internazionale maschile e femminile E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata Arrivederci Arrivederci